Buongiorno, benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa. L'obiettivo di oggi è quello di parlare dei principi di integrità visuale. Che cosa sono i principi di integrità visuale? Sostanzialmente sono delle regole che permettono di andare a capire quali sono i modi corretti di visualizzare delle informazioni. Ovvero visualizzare delle informazioni in cui l'informazione che vogliamo trasmettere resti integra e non sia alterata in alcun modo da uno o qualunque dei passi della visualizzazione. Noi proponiamo tre principi essenziali di integrità visuale che sono la proporzionalità, l'utilità e la chiarezza. La proporzionalità sostanzialmente riguarda la rappresentazione dei dati con delle grandezze che sono fisiche, che sono proporzionali esattamente come lo sono i dati. L'utilità riguarda la capacità di mettere in un grafico elementi che sono essenziali e utili esclusivamente a trasmettere le informazioni, quindi evitando tutte informazioni di contorno che potenzialmente potrebbero distrarre l'osservatore. Infine la chiarezza che riguarda la capacità del grafico di essere letto in maniera priva di distorsioni, non ambigua e senza particolare sforzo. Iniziamo a vedere il primo principio che è quello di proporzionalità. L'idea è che la valutazione dei rapporti tra le grandezze fisiche che sono rappresentate in un grafico devono essere sostanzialmente pari ai rapporti che noi possiamo osservare nei dati. E sostanzialmente devono andare a garantire i tre elementi fondamentali, quelli di discriminazione, confronto e valutazione. Ma la proporzionalità riguarda principalmente l'aspetto di valutazione. Per fare questo è possibile andare a identificare una misura molto semplice che è stata proposta da Edward Tufty, uno dei pionieri della visualizzazione, che si chiama il lie factor. Il lie factor sostanzialmente è la grandezza dell'effetto che noi vediamo sul grafico, ad esempio il rapporto tra le lunghezze di due barre e la dimensione dell'effetto che noi vediamo nei dati, ovvero il rapporto tra i dati che vengono rappresentati da quelle barre. Sostanzialmente come interpretiamo il lie factor? Il lie factor viene interpretato andando a considerare equo un rapporto che sia prossimo al valore di 1. Poi che sia esattamente 1 magari non avviene sempre perché ci sono magari degli errori, delle distorsioni, delle piccole deformazioni, ma sostanzialmente deve essere il più prossimo possibile a 1. Quando questo valore è superiore a 1 abbiamo quello che si chiama un'esagerazione, un overstating, ovvero il rapporto che io osservo nel grafico è molto più grande di quello che è effettivamente poi presente nei dati. Nel caso invece il cui valore sia inferiore a 1, questo sostanzialmente mi porta a una diminuzione, una sottostima di quello che è il vero rapporto che è presente all'interno dei dati. Ovviamente calcolato in questo modo il lie factor sostanzialmente è un valore che può variare da 0 a infinito. Noi in realtà possiamo anche andare a valutare non direttamente il lie factor ma il suo logaritmo. In questo caso il logaritmo del lie factor è un valore che sostanzialmente può variare da meno a più infinito. In questo caso una rappresentazione equa, quindi che rispetta al principio di proporzionalità, è una rappresentazione in cui il logaritmo del lie factor è 0. Valori negativi indichano una sottostima e invece valori positivi indichano un'esagerazione di quello che è il vero rapporto tra i valori che sono presenti nei dati. Piccolo esempio, questo è tratto direttamente da un libro di Edward Tafti. Questo grafico era presente in un giornale, probabilmente il New York Times se ricordo bene e sostanzialmente questo riporta quello che è la capacità di percorrere un miglio, il numero di miglia che un'auto è in grado di percorrere con un gallone di carburante. Qui abbiamo una serie di anni per cui partiamo dal 79 e andiamo all'85 e vediamo qua i corrispettivi valori di miglia per gallone. Se andiamo a prendere queste due linee che vi ho evidenziato in rosso, che corrispondono a 18 miglia per gallone nel 78 e 27 miglia e mezzo per gallone nell'85 e le mettiamo vicine tra di loro, quindi 1 e 2, possiamo osservare che la lunghezza di una è 18,7 cm se stampiamo questa slide su una 4, la lunghezza dell'altra è 2,2 quindi il loro rapporto è 8,5. Mentre invece se andiamo a fare il rapporto tra i valori effettivi, quindi 27,5 e 18, il rapporto è 1,52. Questo significa che il life factor, nello specifico esempio, è pari a 5,59, quindi essendo maggiore di 1, questo rappresenta una chiara esagerazione di quello che è il rapporto effettivo che noi troviamo all'interno dei dati. Altro esempio, questo è un po' più vicino, recente, legato a noi e riguarda una stima di quello che è il PIL, del rapporto, scusate, tra il debito pubblico e il PIL per l'Italia in vari anni. A parte la differenza di colori che osserviamo qua, quello che ci interessa è andare sostanzialmente a vedere i valori effettivi. Quindi andiamo a isolare due barre, che sono queste, 131,4 e 135,2. Se andiamo a misurare l'altezza delle barre, osserviamo che sul grafico le barre sono alte una a 9 cm e l'altra a 3,5 cm. Mentre invece i valori rispettivi sono 135,2 e 131,4. Questo vuol dire che, se andiamo a calcolare l'iFactor, otteniamo l'iFactor di 2,5. Quindi anche qui ci troviamo in presenza di una chiara esagerazione di quello che è il nostro rapporto effettivo che possiamo andare a misurare nei dati. In questo caso, cosa possiamo fare? Possiamo, ad esempio, andare a operare un redesign del grafico. Qual è la causa sostanziale? È che, in pratica, come vedete sulla sinistra, l'asse non parte da 0, ma bensì parte da 129. Quindi la codifica che intuitivamente suggerisce un diagramma a barre, ovvero l'altezza della barra corrisponde al numero, qui è fortemente alterata, perché manca tutta una parte di barra che sta sotto l'asse e che non è rappresentata. Se vogliamo andare a rappresentare queste grandezze utilizzando un diagramma a barre, dovremmo andare a rappresentarle con un diagramma a barre fatto in questo modo. Ora, è chiaro che questo è una rappresentazione più fedele, però tuttavia ci permette di apprezzare meno accuratamente le differenze. Perché? Perché sostanzialmente qui andiamo a trattare quello che era la minima differenza che è osservabile e ovviamente queste barre, essendo così vicine, hanno una differenza percentuale che è minima e quindi ragionevolmente è vicina, se non addirittura sotto, quel valore che è la minima differenza percepibile. Tuttavia, volendo evitare una rappresentazione alterata, che non rispetta il principio di proporzionalità, quello che dobbiamo fare è andare a utilizzare probabilmente un altro tipo di rappresentazione. Ad esempio questa, che è fatta con dei punti. In questo caso, la codifica del valore non è più data in termini di altezza della barra, ma è data in posizione rispetto a questo asse laterale. Per cui non abbiamo più un problema di percezione alterata dovuta a una rappresentazione che non è proporzionale. Quindi bisogna fare molta attenzione a come rappresentiamo i dati in modo che questi vengano percepiti in maniera adeguata, sostanzialmente proporzionale a quanto abbiamo nei dati. Quali sono le linee guida che possiamo dare per fare un design dei grafici che rispettino la proporzionalità? Sostanzialmente dobbiamo andare a mantenere il life factor pari a sostanzialmente 1, cioè una rappresentazione che sia equa, e cercare di limitare anche l'effetto del life factor per quanto riguarda la percezione. Quindi dobbiamo ricordarci delle leggi di Stevens in cui il confronto tra lunghezze è molto più preciso rispetto al confronto tra aree. Il secondo principio di integrità visuale è quello che chiamiamo il principio di utilità, che sostanzialmente consiste nel garantire che ogni elemento di un grafico effettivamente porti un'informazione utile. Questo perché? Perché tutti gli elementi che vengono messi in un grafico e che non codificano degli attributi o non servono per andare a dare indicazioni e quindi facilitare la lettura, sostanzialmente distraggono da quello che è il messaggio fondamentale, ovvero dal rappresentare i dati. Per fare questo, una misura che è stata proposta sempre da Idoard Tafti a questo proposito è quello che si chiama il data increase, ovvero è la proporzione tra l'inchiostro che viene utilizzato per andare a rappresentare i dati e l'inchiostro totale che è stato utilizzato per stampare il grafico. Ovviamente stiamo parlando di un grafico stampato su carta, se andiamo a considerare una visualizzazione, ad esempio online, probabilmente escludiamo il colore di sfondo, ecco tutto il resto, tutti i vari pixel che si differenziano in qualche modo dal colore di sfondo, probabilmente dovrebbero essere utilizzati in maniera da trasferire informazioni utili. Vi riporto un piccolo esempio di quella che è un'operazione di redesign fatta da Idoard Tafti a partire da un grafico. Allora, se osserviamo questo grafico, la prima cosa che effettivamente non porta alcuna informazione è quello che è il bordo del grafico. Il bordo del grafico non ci dice nulla e quindi sostanzialmente lo possiamo eliminare. Il secondo passaggio è andare a eliminare altri elementi. Se andiamo a considerare queste linee tratteggiate che servono per separare gli elementi, di per sé non hanno un'utilità specifica e quindi possiamo andarle a eliminare. Manteniamo questa linea sottostante ogni coppia di barre per andare a sfruttare quello che è il principio di connessione, quindi due elementi connessi vengono percepiti come facenti parte dello stesso gruppo. Per cui non è più necessario utilizzare quelle barre verticali. Un altro aspetto, volendo andare oltre, che sostanzialmente non porta alcuna informazione utile, cioè di quella codificata nei dati, è lo spessore di queste linee. Quindi queste linee potrebbero essere ridotte a semplici linee. E quindi questo è il design completo minimale di quel grafico. Ovviamente è un po' esagerato, per cui la linea guida che mi sento di proporvi per andare a progettare dei grafici che rispettino il principio di utilità è quello di massimizzare il data in crescio, ovviamente andando a eliminare tutto quello che non è data ink, quindi tutto quello che sono decorazioni, contorni, e andando a ridurre il più possibile l'inchiostro che è utilizzato per rappresentare i dati, ma che è magari ridondante. Ovviamente tutto ciò entro limiti ragionevoli di ragione, perché poi questo grafico risulta magari difficile da percepire, è difficile andare a confrontare la lunghezza di due linee, che sono molto sottili, rispetto a andare a confrontare due barre. Quindi abbiamo altri problemi di percezione che possono andare a interferire con una riduzione estrema di quello che è il data in crescio. In generale, in termini di utilità, è bene tenere presente che non è direttamente contemplato dalla formula del data ink, ma ogni volta che io metto una qualche variazione, quindi ad esempio uso un colore diverso da altri, quella differenza di colore è considerata come un qualcosa in più, quindi l'osservatore potenzialmente associa a ogni differenza un qualche messaggio. Se in realtà la differenza di colori non porta a nessun messaggio, ma è semplicemente messa per motivi estetici, ecco questo sostanzialmente viola il principio di utilità, perché stiamo andando a dare delle variazioni, che normalmente sono associate a informazioni, però senza nessuna informazione da trasferire. Quindi quello è un messaggio che sostanzialmente contiene del rumore e non informazione utile. Per cui in genere quello che dobbiamo fare è andare a utilizzare con cura i colori e tutti gli altri aspetti di visualizzazione, per cui ad esempio andando a utilizzare colori saturi e brillanti esclusivamente se vogliamo andare a evidenziare qualcosa, non semplicemente perché preferiamo avere un arcobaleno di colori. Legato al principio di utilità c'è una categoria di grafici che Edward Tafti ha denominato come chart junk, ovvero grafici in cui la presenza di elementi non strettamente necessari può distrarre oppure nascondere del tutto il messaggio che invece dovrebbe essere fornito dal nostro grafico. Un esempio tipico di chart junk che viene riportato da Tafti è questo. Questo è un grafico fatto da un grafico professionista che si chiama Nigel Holmes, qui trovate un link al suo sito con un po' di esempi, in cui sostanzialmente l'unica informazione che è questa linea rossa è annegata in una quantità di altri dettagli che sostanzialmente non portano nessuna informazione utile. Ovviamente Nigel Holmes la pensa diversamente e invece sostiene che un grafico debba essere memorabile, quindi un grafico lo debba essere ricordato a distanza di tempo in modo che l'informazione che contiene sia effettivamente efficace. Ecco, magari ricorderete di questa lezione esclusivamente questo grafico, allora probabilmente state dando ragione a Nigel Holmes. Lo vediamo a distanza di tempo quando vi richiamerò qualche grafico che abbiamo visto in precedenza. Il terzo principio di integrità visuale è la chiarezza. Sostanzialmente l'idea è che la codifica visuale e il layout dovrebbero permettere una percezione facile e priva di sforzi. E tutti gli elementi di supporto, quindi gli assi, ad esempio, o le notazioni testuali, dovrebbero effettivamente agevolare la comprensione dell'informazione. Quindi, in pratica, ogni variazione che noi andiamo a mettere nel grafico deve dare un contributo alla lettura e alla comprensione migliore di quello che è il grafico, il messaggio che noi andiamo a rappresentare. Cosa vuol dire questo? Vuol dire sostanzialmente che, ad esempio, gli elementi testuali devono dare un aiuto nella comprensione di quello che è il messaggio che è nascosto nel nostro grafico. Sostanzialmente devono essere gestiti in maniera gerarchica, ovvero, gli elementi più importanti devono essere messi in posizione proveniente e con dimensioni più grandi, per cui il titolo normalmente sta in una posizione elevata, in alto e ragionevolmente a sinistra. Altri elementi che magari sono meno importanti devono essere più piccoli o magari con colori più tenui. Devono essere leggibili, quindi grandi abbastanza per essere leggibili. In generale, tutto il testo dovrebbe essere potenzialmente in orizzontale, quindi le etichette verticali dovrebbero essere evitate per quanto possibile e in generale il testo dovrebbe essere vicino agli elementi a cui si riferisce, per cui il direct labeling che abbiamo visto la volta scorsa è una buona tecnica e soprattutto è decisamente superiore a quello di utilizzare delle leggende che magari sono distanti del grafico. E un'altra cosa che è importante ricordare è che gli assi di un grafico devono essere sempre etichettati perché io devo sapere quali sono le grandezze che sto andando a rappresentare. Per quanto riguarda il colore, ecco, in generale un principio che si può seguire facilmente nella scelta dei colori è quello che in inglese si dice get it right in black and white, ovvero cercate di fare un grafico che sia corretto e sia visualizzabile in bianco e nero. Immaginate che chi guarda il grafico lo stampi con una stampante in bianco e nero e sia ancora in grado di leggerlo, quindi sia in grado di percepire le differenze tra i colori e quindi utilizzate colori che hanno delle luminosità diverse in modo che vengano mappati su colori di grigio o su livelli di grigio diversi. Utilizzate colori medi o tinte pastello anche perché in generale i colori brillanti distraggono l'attenzione e a lungo andare stancano la vista, quindi se io guardo un grafico molto colorato tendenzialmente mi affatico la vista e non riesco a osservarlo correttamente e in generale utilizzare colori molto vari una palette ampia quando ho uno scopo quindi quando la differenza di colori ha un chiaro scopo comunicativo. Ricordiamoci sempre che in termini di chiarezza qualunque compito diciamo e di valutazione e di valutazione di una visualizzazione si basa su lettura del grafico quindi ci sono due fattori importanti da tenere presente che possono andare a influenzare l'efficacia e anche l'immediatezza della nostra capacità di fare un compito percettivo. Questi due fattori sono la detection ovvero la capacità di andare a identificare in maniera visuale gli elementi che io voglio andare a valutare e la separation ovvero la distanza che ho tra gli oggetti che sono presenti e che io voglio andare in qualche modo a confrontare o la cui dimensione voglio andare a valutare e a comparare. Ovviamente più riesco a distinguere gli elementi facilmente più sono agevolati i miei compiti percettivi e in generale più c'è una separazione quindi più c'è una distanza meno riesco a fare i compiti di confronto e di valutazione quantitativa. Vi faccio un altro esempio che invece ha sostanzialmente un livello di chiarezza abbastanza basso. Allora iniziamo dalle etichette che sono tutte in diagonale e quindi potenzialmente difficili da leggere. Un altro aspetto sono questi numeri i numeri sono ragionevolmente legati a delle bolle ma facciamo a volte fatica a capire a quale bolla fa riferimento un numero per cui questo 1,22 probabilmente fa riferimento a questa bolla questo 1,56 fa riferimento a quest'altra quindi ho una difficoltà significativa di andare a identificare e separare gli elementi che voglio andare a confrontare. quindi riepilogando abbiamo parlato di tre principi fondamentali che possono essere utilizzati per andare a valutare la bontà e la correttezza di una visualizzazione i tre principi sono quelli di proporzionalità utilità e chiarezza sostanzialmente le grandezze fisiche in un grafico devono rispecchiare i dati che io codifico tutti gli elementi del grafico devono essere utili a trasmettere l'informazione quindi devono rappresentare in qualche modo dati e la struttura del grafico e gli elementi di supporto devono sostanzialmente garantire la chiarezza e andare a facilitare la comprensione e tutti i compiti di percezione quindi dalla parte bassa di percezione degli attributi preattenzionali alla parte di ragionamento alla parte di comprensione e quindi tutto deve andare a permettere di trasmettere la trasmissione di un messaggio chiaro e facilmente comprensibile in maniera immediata grazie a tutti